Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video, io sono Anthony e io sono Kevin, abbiamo deciso di portarvi questo nuovo gioco che si chiama Peggle, spero vi piaccia e dopo mettete un commento o un like per vedere se vi piace, spero. Proviamo a giocare, abbiamo già fatto i primi due livelli per vedere un po' com'era, ora andiamo a vedere il terzo e per ora abbiamo avuto anche un po' di culo a giocare. Lo scopo di questo gioco è prendere queste palline e fare il più ponteggio possibile, ora stiamo facendo l'avventura per sbloccare i personaggi così poi magari ci sfideremo quando avremo un po' di personaggi. Le palline rosse servono per far finire questo livello, danno più punteggio e le palline verdi danno un bonus, come ho dato ora. Olè, ho preso anche l'altro gioco. Ok, non potete prendere. Ah, almeno il bonus lo usavamo. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Eh, sono un genio, ragazzi. Tiro lungo 25.000 punti. Vai, vai. Forza, forza. Io ti vedo, non ci passa io. Mi cazzo l'avvelo un sacco. Farò così. Visto, ok. È andata bene questa, prende anche quella. Dai, dai. Le palline a bonus? No, eh. No. Sì. Sì, perfetto. Allora, io voglio prendere questa. No, mi sa come non ce l'ha dato la palline. Andiamo così. Vabbè. Eh, no. Proprio il tiro di merda, ragazzi. Ah, dobbiamo riprendere, adesso. Oh, perfetto. Tu c'hai un culo che non si riusci più. Eh, adesso qua. Dentro riuscivi più a prenderla. Mentre dove? Prendi roma. Ma forza. Miglia, un rosso che devi prenderla. E non ha preso, che fa mia. Uno da tre. Allora, prima di che niente. Abbiamo soltanto due palline, eh, quindi devi prendere un rosso. Eh, eh. Almeno un rosso. Mi cazzo lo prendi. Si passi mezzo qua, e prova. Ma va. Tutte prese sono quello che devi prendere. Speriamoci da pallina buona, non solo la prende. Parla bonus. Eh, prova di dire. Che culo, minchia, devo prendere. Parla bonus di merda. Uno l'abbiamo? Eh, sì, come cazzo? Eh, prova. Così. No, prova a tirare. Ma non così. Prendilo. Sono un genio. Sono un genio. Minchia al culo. Non ormai che non volevi che prendi quella. Sono un genio. Anche decimila. Prendi, sono un genio. Nuovo livello. Questo è un po', guarda, questo. La pallina viole. Un po' che parola li raddoppia il punteggio. Che cazzo è la pallina mia? Ah. Quindi, se tipo, noi facciamo una cosa. Riprende tutto? No. Wow. E metà con la presa. Si prendi di là. Perde. Ma porca, va bene. Vabbè, dai. Vabbè. Vabbè. Resta su, resta su. Wow. Ah, non è il culo. Eh? Aspetta. Si è fatta. Vai, tieni lì. Dai, prendila. Prendila. Qual è? Perfetto, prendi un'altra. Magari ti prendi anche un bonus. Prendi anche l'altro rosso. Che culo che c'hai io. Allora, potresti prendimi anche quello. Ma hai sempre il viola o lo siete? Prendi il viola. Viola viola. Eh, basta. Fai la presa su quello. Vabbè. Bello. Sì. Mi ha piaciuto questa. Vabbè. Un verde e tre rosse. Perfetto. Allora. Proviamo così. Vaffamai. Alla bonus almeno. Vai. Ci ne manca un po' è? Basta. Questa è difficile. Eh, proviamo. Se provi a prendere questa rossa, magari ne prendiamo anche un po' di blu. Cosa vaffamai me la. Se ne mancano una. Come due. Prendiamo questa qui. Eh. Quindi andiamo con una. Dobbiamo riuscire. Eh, in che caso è impossibile. C'è un bonus qua. Eh, però comunque cazzo deve essere il bonus se non riesci a prenderlo qui. Cazzo deve essere il bonus se non riesci a prenderlo qui. Cazzo deve prendere questo e prenderlo. Sì. Cacchio, era giusto. Vieni a riparlo. Sì. Allora. Proviamo a prendere quella. Riproviamo a fare così. Prendi il verde, prendi le rosse. Ok. Tutte le hai prese. Io faccio di qua allora. Bene. Sì. No. Eh. Poi ti prendi anche quelle, no? Di più centro. Allora. Così dovremmo prendere tre dovremmo prendere. Perchè? Parabona. Parabona. No. Questo è lo stesso. Faccio qua. Vai. Tu prendi anche l'altra. Prendi quella. Perfetto. No. Prendi anche quell'altra, no? Le rosse potevi prendermele comunque. Vai quelle. Quella. No. E prendiamo queste. No. La poteva. C'hai il punto, il coso. Quindi scorruttalo. Aspetta un attimo. Dai, proviamo così. Così, faccio così. Dai. Oh, vai. Abbiamo... Tu puoi prendere quella. Proviamo così. Non me l'ha presa. Eh, però va la bonus. Ma se fai così. Eh, non me l'ha presa. Eh, non me l'ha presa. Dai, parabona. Vai, sono un genio. Dai, parabona. Dai, parabona. Perfetto. Però non abbiamo più cosa. Quindi noi... Proviamo così. No. Bello, mi è piaciuto. Scusa. Eh... Ogni tanto posso sbagliare. No, perché il tuo... Eh, fai l'inco che se vuoi. Io non ho fatto niente. Oh, vabbè. Vabbè, c'ho solo... Eh, abbiamo solo due palline. Perfetto. Abbiamo due palline. No, non lo prendiamo. L'ultimo, Anthony. Beh, come tu cazzo hai avanciato? Non so. Ho ancora una. Ho ancora una. Ho ancora una. Vabbè, aspetta un attimo. Facciamo un parla bonus. Semmela da. No, ho sbagliato. Ma fai schifo. Eh, ti ho dato un'altra. Ah, no. Finchè non colpisci qualcosa. No, però dai. È schifo. Ok, sì, sono una merda. Fai cagare. Proprio... Mi scusami. Cioè, è mio. Ah, grazie. Si cominciamo. Dai, partito. Ho fatto io questa volta. Io sì. Io posso... La linea la farei per ultimo. Prendo le prime queste. Eh, ho preso quelle. Non devo fare prima le prime. Se la pallina si bloccava, le prendo io. Dai, ma è notta. Rossa? Un'altra rossa? Che culo. Palaband? No. Cioè, è un culo. Prendi... Prendi la rossa? Prendi la rossa? Un'altra rossa? Vai, subito. Vai, subito. Dai, un'altra potente. Dai, un'altra potente. Prendi lo... Prendi lo... Prendi quel? Prendi quel? Prendi quel? Palaband? Vai... Vai, di là. Vai, potresti prendi anche l'altra? Perfetto, ora abbiamo la voglia, se ce lo facciamo questa, è vero, eh ragazzi, questa l'abbiamo Questa è la faccia, hai visto che dovevamo iniziare l'uno agli altri, vai al 100, 100, no, 10.000, sei così stronzo? No, ma che parla, sempre 10.000, è così stronzo, sempre 10.000 arriviamo, non si è per 100.000, nuovo livello, allora Allora, io faccio qua, vediamo cosa succede, bello, mi piace come vuole, beh beh, ma poi Di penne è anche l'altra, no, vaffanculo, ok, dai un'altra rossa, un'altra ancora, no, ti è andata male Andiamo io per cazzo di scafare, faccio questo, no, è una cosa che rimbalza, si rimbalza Andiamo, mi piace faccio così, no, che di penne è la problematica, wow, wow, vai vala vala, no, dai, un'altra rossa, prendi quella, e fai, perfetto Questa è la falsa, faccio così Cerca di... No, no, no Parabonus, parabonus, dai In cos'è stanza Non capisco Ok, parabonus Vabbè, almeno questo, hai avuto il culo di quello Vabbè, parabonus, parabonus No Proviamo, farlo entrare lì Entra lì, prendi il rosso e no Stronzo, stronzo potente Ok, farla bonus Ancora due, la tre Ancora due Due più, questa è Vabbè, dai, mi si piglia quello in mezzo Trova Ma vaffanculo Fala bonus, no E' il tuo tuo palo E' il tuo E' la mia prendi qualcosa Non so E' la mia mancava uno Dai, potevi darmi la parabonus Vabbè, dai, riproviamoci Guarda, potevi darmi la parabonus Non l'ho vista questa Ma che ti prendi il te tre, l'altro? Testa di cazzo Dai, parabonus Vuoi? Parabonus Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Sì, andranno! Vai, vai su! Non mi fai! No, sei schifo! È il treno, eh sì, è il treno, è il telefono che esplode, troppo, non so... Va, almeno rossa? Ok. Tocca a te, vai! Arriva! Tocca a me, vediamo un po'. Vai! Ma allora, fatta miseria! Questo mi sa che non perdiamo. Ma va, puoi vincere! Dai! Ok, se ne alza via, eh! Ne alza più fai! Gisto! Vai! Perfetto, ci manca solo questa, dovremmo riuscire a prenderla! Se la manco ti do la... No, dai, guarda! No! Sì! Vai! Solo un mito! Perfetto! Ma sempre 10.000 prendiamo? Sì, ormai ci siamo affezionati! Perfetto! Perfetto! Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, speriamo di farlo insieme, se no... Ok, lo facciamo da soli oppure ci sfidiamo! Eh, ti batto io! Se vi è piaciuto questo video, lasciate un commento, un mi piace... Iscrivetevi al canale! Bella a tutti ragazzi! Bella! Grazie! Grazie!